buongiorno ritrovati anche con questa diretta vediamo un po si arrivano le notifiche se arrivate anche voi ma buongiorno buongiorno eccolo qui è arrivata la notifica scusatemi ma prima controllo sempre con l'altro telefono se mi vedo e se mi sento e direi che siamo ci siamo come va fa caldo da voi perché qui fa veramente caldissimo a una voce un po così perché cosa ho fatto ieri se eri note in realtà che era notte fatto tardissimo ho lavorato all'uncinetto perché di giorno fa caldo fa tantissimo caldo ciò non vuol dire che rinuncio all'uncinetto non posso farlo fatemi sapere se mi sentite scrivete qualcosa nella chat la leggo la leggo subito avete visto il mio ultimo progetto chi è che l'ha visto è questa è questa qui è questa pochettina in realtà è una borsa perché non è che c'è qualcosa da chiudere buongiorno sonia ben arrivata effettivamente c'è un affa che non si respira anche lì da te vedo a di si va di aria condizionata ma non troppo alta perché praticamente poi vedete che sono un po chiusa anzi più che vedere mi sentite e faccio magari 5 minuti di aria condizionata poi sto un po così e poi di nuovare condizionata ma non è sano allora questa è l'ultima borsa che ho fatto è bellissima è veramente bella e ancora tutte imbottite ci ho messo delle buste di plastica che ho preso dalle dalle borse che portano al mercatino perché lo faccio tuttora il sabato sera sto conoscendo un sacco di persone veramente di persone fantastiche ma che non fanno uncinetto sono l'unica a fare l'uncinetto lì però c'è chi crea con il legno chi chi disegna chi fa i quadri chi fa il cucito chi fa i gioelli veramente bellissimo mi sto divertendo un mondo e sto scoprendo anche un altro mondo che prima non conoscevo di solito questo mondo delle land made di tutto quello che è fatto a mano lo conoscevo tramite facebook gruppi youtube allora cosa ne pensate è tutt'una non c'è rete non c'è niente questa è la cucitura vedete che un po grazie anche a te sonia anche a te buona giornata e buona giornata anche a tutti perché dai piano piano non possiamo neanche lamentarci più di tanto del caldo perché quando fa freddo ci lamentiamo che fa freddo si fa troppo caldo ma non è tanto il caldo è proprio la fa che non è difficile sopportare vi volevo far notare che io quando ho fatto questa cucitura a punto basso ho preso una costina da una parte e poi dall'altra poi nel punto dopo ho cambiato l'ho presa dall'altra e dall'altra parte così viene tutta tutta zig zag perché se la prendi solo da una parte poi la cucitura tende a girarsi su un lato è capiente giusto per le cose necessarie quindi telefono portofoglio è tutto quello che avete bisogno per farvi una passeggiata come ho detto nel video progetto se la volete più grande io personalmente consiglio di foderarla almeno almeno questa parte qui però si fa fatica perché noi abbiamo tutto un pezzo unico quindi cercate di foderare più che altro la parte centrale per una questione di comodità ma poi se riuscite fatte fate voi come come desiderate quindi è quello il mio discorso più che mi interessava a dirvi perché è piccolina ci regge ma se mettete tanta roba dentro non tanto è una rafia naturale quindi è bellissima da lavorare bellissima da sentire anche come come prodotto ma è normale che magari rispetto a un prodotto sintetico e meno resistente vi faccio vedere anche la rimanenza questa la lascio qua è questa la rimanenza devo dire che mi ha sorpreso non pensavo che mi rimanesse così tanta roba e io ho anche la rimanenza dell'anno scorso che lo stesso prodotto lo faccio notare anche dallo spessore anche se comunque questa è girata su se stessa quindi lo spessore cambia ma quando lo si apre è lo stesso allora mi è venuta un'idea un po strana pensavo di utilizzare queste due rimanenze per fare una pochettina piccolina sicuramente da foderare perché comunque è raffia naturale come ho detto prima qui non resiste molto adesso devo capire bene se devo utilizzare una rete per dare il sostegno almeno sul margine oppure semplicemente a lavoro con un cinetto leggermente più piccolo così è più compatta devo vedere intanto io la butto lì quindi se non siete adesso in diretta non fa niente vedrete dopo il video ditemi cosa ne pensate vi interessa vedere una pochettina con questi due colori ma io scelgo questi due colori perché io in casa altrimenti sono da ordinare effettivamente sto finendo il programma dei progetti che avevo detto nell'apertura dei pacchi quindi me ne mancano due una borsa una canota e poi tutte le altre cose che ho metto in mezzo perché la voglia di creare c'è e mi ricordo sempre quello che in casa di filati è venuto così intanto avete un'opzione così su questi poi il costume cosa ne pensate del costume ho visto pochissimi commenti non capisco se è una questione che mi sembra troppo scoperto perché non l'ho foderato o semplicemente di tema è già estate non mi metto adesso a farlo perché lo finisco quando già arriva il freddo se questa preoccupazione non ci deve essere perché un progetto che si fa in poco niente c'è nel senso io ho detto due ore ma tanto per stare larghe ma si fa molto prima va bene cambia anche un po della taglia perché a questo piccolino con sergermente più grande è normale che se si ha una taglia molto grande di seno magari si lavora qualche riga in più però parliamo sempre del punto greni quindi una maglia alta semplice e poi da riprendere lo potete riprendere con lo stesso colore quindi in questo caso sarebbe stato il giallo in quest'altro sarebbe stato il fioc il bianco scusate questo caso sarebbe stato il fioc color che non mi ricordo il nome il giallo non mi ricordo comunque l'avete visto nella maglia indi quindi sono tutte le rimanenze quindi si fa veramente con poco pochissimo poi chi ha in casa un filato elastico specifico per i costumi il consiglio di provarlo perché comunque sarà ancora meglio la vestibilità almeno credo fatemi sapere nei commenti almeno questo sotto questo video se vi piace questa idea di progetti oppure sono troppo piccoli o proprio non vi interessa così non li creiamo più poi ah sì vi faccio vedere un prodotto che conoscete già perché l'ho utilizzato e io questa rocca ce l'ho già in casa da appena è uscito quindi direi un paio d'anni ma non li abbiamo mai utilizzati perché mi sono buttata sempre su dei filati nuovi su progetti nuovi eccetera eccetera e credo che finiti quelli che devo fare inizierò a lavorarlo spero prima di agosto di pubblicare già il progetto perché si iniziano con le vacanze poi si fa fatica a trovare qualcuno disposto a lavorare l'uncinetto in vacanza io faccio parte dell'altra categoria io lavoro sempre allo scelto però questa sono io gli altri sono liberi fare quello che vogliono allora questo è il tape il tape l'abbiamo utilizzato con la borsa fiore quando ho fatto la rete e la bandana poi cosa abbiamo fatto la pochettina rosa questo è il colore oliva abbiamo 200 grammi e sono 340 metri a un cento per cento viscosa quindi sentite una morbidezza una leggerezza con questo filato che è difficile da spiegare sono io pigra nel esporvi molto questo tipo di filato ma perché una questione mia siccome non mi piace cucire perché questo lavorare bisogna prendere un ago e bloccare i cappietti se non si smontano è talmente fine e scivoloso tra virgolette risulta leggero che se non si fa questa cosa poi si disfa il lavoro ma io andrò a fare un maglia no direi di no perché tanto è molto aperta un coprispalle barra maglia ancora lasciatemi definire bene il progetto comunque sarà top down quindi non avete cuciture quindi al massimo saranno 23 da bloccare di inizio lavori e quindi non vi devo fare impazzire più di tanto sarà un top down e forse userò 23 colori vediamo forse ci sarà anche questo colore in mezzo adesso vediamo quanto quanto è la resa perché io non ho ancora finito una rocca cioè io l'ho lavorato ma non ho ancora finito una rocca addirittura c'è ancora la rocca del verde acido con peci la borsa fiore sul 340 metri quindi una buona resa poi si utilizza l'uncinetto non l'ho detto 57 devo fare una prova perché io l'ho utilizzato molto più piccola avevo bisogno di creare la rete leggermente stretta e ecco diciamo che un progetto che butterò su mi ricordo ancora tutte le borse che ho fatto vedere che vi devo far vedere ma non so se riesco a farla questa stagione ma magari la facciamo nella stagione invernale prima di dirvi l'ultima cosa per quanto riguarda questo filato c'è una novità sul sito di filati discount si chiama sconto sulla quantità tape so che c'è perché sono andata a controllare le quantità perché mi sono detta vado a fare un progetto poi magari non c'è più perché sono quei filati che durano una stagione poi spariscono perché poi sono belli e tape c'è ancora quindi anche se faccio il progetto riuscite anche voi a ricrearlo e soprattutto c'è questo sconto che ne so voi ne prendete due pagate un tot ne prendete tre pagate un tot e così via quindi direi che è ottimo adesso farò il progetto vedrete anche voi quanto filato vi serve e se vi serve insomma ma tutto quello che io creo da questa pochettina dai dal bikini dalla parte sopra voi potete cambiare i filati assolutamente perché io quando vi do le indicazioni ve li do sia con i centimetri sia con i punti per voi potete sempre cambiarli cerco di dare comunque la varietà di filato anche un filato un progetto estivo lo si può fare con un filato invernale insomma il cotone costa molto di più rispetto a un filato che ne so un acrilico che è sintetico costa molto di meno quindi nulla vi vieta di utilizzarli i progetti sia per un filato estivo che per uno invernale questo è una libertà di scelta anni dimenticavo per lui per loro il costume sulla parte sotto me la sto studiando però siccome siamo con i tempi stretti ho detto lo buttiamo per la prossima stagione cercherò di fare una cosa che vesta bene che vesta bene e che non rischiamo di perderlo in acqua anche se io personalmente non consiglio questo questi costumi da bagnarli perché comunque sono spessi e fanno fatica ad asciugarsi e vabbè è un gusto personale i costumi di uso molto leggeri così non li ho molto insomma bagnate addosso però questi sono questa questione di gusti e li vedo bene per le passeggiate ecco questo sì e adesso vi faccio vedere una cosa non la apro perché se non si capisce quello che è e chi mi segue nei podcast si ricorda che io ho una busta gigante di filati di fiocotone che sono rimanenze da addirittura della borsa fiore quindi parliamo di due anni passa e ho 20 grammi 30 grammi o magari un gomitolo intero perché l'ho preso per fare una cosa poi dopo è saltata oppure mi è rimasto da un progetto e io ho pensato di fare questa bellissima mattonella non è opera mia l'ho trovata su internet l'ho modificata leggermente perché i punti non mi tornavano ma ci sta ogni una creativa che va a fare un progetto una mattonella in questo caso utilizza un certo tipo di filato e ha una certa mano io personalmente lavoro molto largo e con i punti che c'erano lì precisi precisi non mi tornavano in conti quindi l'ho leggermente modificata io qui sto utilizzando il fiocotone con l'uncinetto 3 a meso quindi è molto molto morbida ma deve essere morbida adesso io ho deciso quello che andrò a fare però nulla vi vieta a voi di andare a fare che ne so una borsa una giacca una canota una maglia ma anche per l'inverno è bellissima questa questa mattonella veramente bella è anche molto versatile ne ho provate tantissime ma avevo bisogno di qualcosa di speciale per ogni colore perché andrò a utilizzare colori diversi ecco vi faccio vedere solo questo guardate è particolare perché ogni mattonella ha il suo colore però nulla vi vieta di utilizzarla con un colore unico utilizzare questa mattonella con un colore unico ha il suo perché l'unica cosa che posso fare perché la quantità non ve la posso dare perché non lo so quanto sarà e prendere il progetto finito e pesarlo e lì voi capite che ne so se vi servono 200 300 grammi non ecco per quanto riguarda i capietti da nascondere sarà solo uno per mattonella perché quello centrale lo andiamo a lavorare già al massimo andate un po a tagliare se rimane qualcosa fuori ecco direi che vi ho detto tutto fatemi sapere nei commenti cosa vi incuriosisce di più lo so che c'è fa caldo è l'uncinetto magari l'ultima cosa a cui si pensa ma io non smetto non riesco a smettere per me è un conto che magari dopo lavorando mi abbronzo la macchia direi che non è una buona idea sono molto predisposta a queste cose che ne so mi sporco con un po di sabbia io mi dimentico di pulirmi quando torno a casa mi faccio la doccia mi vedo una bella macchia bianca ormai mi prendono in giro i miei e anche il mio compagno mi prendono in giro perché dice ma tutti ambronzo la macchia è che ci devo fare mi distrago ecco tutto qua e e direi basta perché ormai siamo a 18 minuti e vi ho fatto vedere già un po di cose non tutto mi rimangono due progetti di quelli che abbiamo deciso una maglia e una borsa che in realtà non è una maglia scusate una canotta e una borsa e le sto lavorando e poi tutto il resto non ho niente o questo o questo però sono cose che ho aggiunto dopo nel senso voi non siete informati poi ci sarebbe anche la pochette giallo rossa che è un po nasardo come colori il giallo e il rosso magari ne butto qualcos'altro tanto io di di filati per borse ne ho in casa qualche rimanenza però vabbè che son pazza quindi io metterei tutti i colori dentro nel senso ho fatto quella pochettina colorata con il fiocottone che ha centomila colori quindi per me non è un problema farlo buttare un altro colore aspetta vi faccio questa proposta rosso giallo e vi ricordate la rocca di di cigno piccolo facciamo il margine con il cordino così sappiamo che regge tantissimo anche i manici e i pannelli davanti e dietro con il rosso giallo io la butto lì voi dovete dirmi se vi sta bene perché se non vi sta bene io mi posso anche adeguare i vostri gusti mando un abbraccio a tutte e a tutti sonia grazie avermi iscritto per fortuna la chat funziona un abbraccio anche a te e niente ci vediamo col prossimo video progetto che ancora non so qual è adesso vediamo un attimo e saranno uno di questi che ho presentati non vi preoccupate però io sono molto presa adesso da queste mattonelle si fanno in un attimo e sono molto molto presa magari vi registro anche un po come si fa e poi decidete in voi in cosa utilizzarla e la farò vedere in questa versione e poi voi decidete se utilizzarla in un'altra una borsa estiva direi che è veramente bella anche con la raffia con una mattonella così oppure la iuta basta non vi dico più niente se no dopo mi viene voglia di crearla io e non è giusto perché veramente mi potrei mettere lì a crearla buon buon fine settimana attente con il caldo non uscite nelle ore più più forti come mezzogiorno e un abbraccio a tutti e anche un bacio ciao